La striscia più vincente d'Italia, quella di Alessandro Corleone da campione interregionale. 22 lottatori, sì ben 22, nati initi giù. Tutti tranne uno, tranne Nick Lenders, il sottoscritto. Uomo d'onore ti professi Corleone, ma per tenermi giù, per buttarmi a terra, hai dovuto usare per ben due volte una sedia. Sai cosa ti dico padrino? Questo sabato a Pontoglio, a casa mia, a Brescia, davanti ai miei tifosi, ti sfido per il tuo titolo in un match senza regole. E lì sì che ti prenderò davvero a calci in faccia e ti porterò via il titolo. E un'altra volta, finirà così, ci puoi scommettere.